... Rinviato al 2 aprile l'udienza preliminare per la morte in un incidente stradale a Licodia del 22enne Adranita Carmelo Bulla, indagati il conducente dell'auto e il dirigente del comune. La polizia di Adrano arresta un uomo e una donna in possesso di eroina. Gli atteggiamenti insofferenti dei due hanno insospettito gli agenti. Guardia di finanza e vigili urbani in azione appaternò contro gli ambulanti abusivi di Arance, sequestrate a tre soggetti, 370 kg di agrumi. Terza fatica letteraria per la scrittrice catanese Barbara Bellomo, il nuovo giallo con protagonista Isabella De Clio alla ricerca della corona di Archimede. Cari telespettatori buonasera e benvenuti a questa edizione di mercoledì 23 gennaio di Ivi24 Notizie. È stata rinviata al 2 aprile l'udienza preliminare nell'ambito dell'inchiesta per la morte in uno scontro autonomo dell'adranita 22enne Carmelo Bulla. L'incidente avvenne il 1 novembre del 2017. Sentiamo i dettagli. È stata rinviata a martedì 2 aprile l'udienza preliminare del procedimento per la morte del 22enne adranita Carmelo Bulla, avvenuta la notte di Halloween del 2017 a Santa Maria di Licodia, in via De Gaspari, alla curva della morte. Il PM aveva chiesto il giudizio per il conducente dell'auto su cui viaggiava Bulla, un suo amico, e per un dirigente del comune di Santa Maria di Licodia, il primo indagato per omicidio colposo, il secondo per concorso in omicidio colposo. All'udienza preliminare di qualche giorno fa, i legali dei due indagati hanno prodotto una documentazione aggiuntiva che verrà vagliata dal pubblico ministero titolare dell'indagine. Il tremendo impatto autonomo avvenne alle 3.13 della notte fra il 31 ottobre e il primo novembre. I due amici stavano facendo ritorno a casa da una festa di Halloween, a bordo di una Fiat Punto. Alla curva della morte, al confine fra Licodia e Biancavilla, l'auto si schiantò contro il muro in cemento armato. Ricoverato in ospedale a Catania, Carmelo Bulla spirò poche ore dopo nella rianimazione del Garibaldi. Il conducente dell'auto venne ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cannizzaro con un politrauma. La Polizia di Stato di Catania ha arrestato il catanese Giuseppe Dignoti, di 32 anni, accusato di apologia del delitto di terrorismo, mediante strumenti telematici. L'indagine da cui è scaturito il provvedimento restrittivo di oggi fa riferimento a fatti verificatesi tra il 2016 e il 2017, scoperti dalla Digos di Catania che si è avvalsa di intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione, pedinamento e numerose testimonianze. Dignoti, sì dal 2016, aveva iniziato a svolgere un'intensissima attività di proselitismo in vari gruppi WhatsApp, nei quali si celava sempre sotto lo pseudonimo di Hamed, fingendosi di nazionalità egiziana. Ai partecipanti inviava numerosi video e immagini ritraenti le azioni delle milizie dell'Isis, scene cruente di uccisioni e decapitazioni. L'uomo aveva più volte incitato altre persone a prendere un fucile o un coltello e ad andare ad ammazzare qualcuno, a fare pulizia a Milano, in Calabria, si legge nelle intercettazioni. Manifestando odio verso qualsiasi cosa rappresentasse l'Occidente. Dignoti si trovava già in carcere dall'ottobre 2017 per altri gravissimi reati commessi nei confronti dell'ex convivente di nazionalità ucraina. E i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale hanno arrestato in flagranza di reato il catanese di 35 anni ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'azione repressiva degli uomini della squadra Lupi è scattata ieri sera al termine di un'indagine che li ha condotti in un'abitazione di Catania e successivamente in una casa delle campagne di Belpasso, dove sono stati rinvenuti e sequestrati sette panetti di hashish dal peso complessivo di circa 300 grammi occultati nella custodia di una chitarra e dentro alcuni mobili. Un bilancino elettronico di precisione, nonché diverso materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacenti da porre in vendita. E le fiamme gialle e i vigili urbani in campo a Paternò contro la vendita abusiva di agrumi in strada. Requisiti centinaia di chili di arance di dubbia e forse illecita provenienza. Il servizio. La polizia di stato del commissariato di Adrano ha arrestato Sebastiano Ardizzone, 42 anni, e Maria Destro, di 54, poiché ritenuti responsabili in concorso tra loro di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio, il personale del locale commissariato ha fermato un'autovettura con a bordo un uomo e una donna. I due soggetti sono apparsi ai poliziotti sin da subito, insofferenti al controllo, tanto da indurre gli agenti ad eseguire una perquisizione personale. Dal controllo effettuato è stato rinvenuto, occultato nel giubbotto indossato dalla donna, un involucro in celofan contenente eroina per un peso complessivo lordo di circa 10,2 grammi. Espletate le formalità di rito, i due sono stati condotti presso la propria abitazione e sottoposti al regime degli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida di arresto e in attesa del giudizio per direttissima che si terrà in data odierna. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia hanno tratto in arresto di a queste le iniziali, pregiudicato di 33 anni, per aggravamento pena a seguito delle ripetute violazioni dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, accertate da una proficua attività investigativa portata avanti dagli uomini dell'arma della stazione licodiese. L'uomo era in atto sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e all'obbligo di dimora nel comune di residenza a seguito di un precedente furto. Lunedì mattina i carabinieri di Biancavilla hanno arrestato Giuseppe Ferro, pregiudicato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Catania, per espiazione di un cumulo di pena detentiva di 4 anni e 8 mesi di reclusione, per i reati di rapina in concorso, furto con strappo aggravato e lesioni personali. Per entrambi i soggetti sono stati disposti gli arresti domiciliari. Un uomo e una donna sono stati fermati dalla polizia di Adrano per detenzione e spaccio di droga. L'atteggiamento insofferente dei due nei confronti degli agenti che li avevano fermati ha insospettito le forze dell'ordine che hanno poi proceduto con una verifica più approfondita. Ma sentiamo i dettagli. 370 kg di arance di provenienza non accertata sono stati sequestrati a Paternò a tre venditori ambulanti del tutto sconosciuti al fisco, in pratica abusivi e irregolari. Ad operare il sequestro è stata la guardia di finanza della compagnia di Paternò insieme alla polizia locale paternese. L'operazione rientra nell'ambito dell'intensificazione dei servizi disposti dalla Prefettura di Catania per la sicurezza della produzione agrumicola etnea. I finanzieri, dopo un monitoraggio delle aree cittadine interessate dalla vendita ambulante di frutta, hanno individuato in Corsitalia tre operatori risultati fiscalmente inesistenti che senza alcuna autorizzazione avevano posto in vendita ottime arance a prezzi convenienti. Gli interventi delle fiamme gialle dei vigili urbani sono stati orientati a contrastare le diverse forme di illegalità legate alla vendita di arance di dubbia provenienza, probabilmente anche da furto. Sequestrati, come detto, 370 kg di prodotti agrumicoli privi di tracciabilità. Applicate sanzioni amministrative connesse all'occupazione abusiva di pubblica strada, mentre la Guardia di Finanza, nell'ambito delle competenze di polizia economico-finanziaria, ha contestato ai tre ambulanti, totalmente sconosciuti all'erario, gravi violazioni di natura tributaria, tra le quali la mancata installazione del misuratore fiscale. I controlli interforze per la repressione del fenomeno dell'illecito commercio di prodotti agrumicoli di presumibile provenienza furtiva proseguiranno anche nei prossimi giorni. Il Tribunale di Catania ha negato la costituzione in parte civile di LAV, l'altra zamba onlus e lega nazionale per la difesa del cane, nel procedimento a carico del gestore di canili catanesi Nuova Entra ed altri soggetti, per diversi reati, fra cui truffa, detenzione in condizioni incompatibili con le caratteristiche etologiche degli animali. Si tratta di una decisione incomprensibile, affermano le associazioni difese dagli avvocati Pilar Castiglia, Gaetana Cipolla e Michele Pezzone, in quanto il Tribunale ha affermato che non avremmo subito alcun danno dai comportamenti degli imputati, in violazione di una giurisprudenza consolidatissima e più volte confermata dalla Corte di Cassazione. Le associazioni preannunciano che studieranno ogni strada da percorrere per quello che è stato considerato un errore. E adesso parliamo di politica e dei consigli comunali del comprensorio. La prima convocazione in ordine colonologico è quella del civico consesso di Biancavilla, che andrà in aula il 25 gennaio alle ore 13, per deliberare sull'adesione all'iniziativa dell'Unione Europea per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Lunedì 28 gennaio alle 17.30 a riunirsi saranno i consiglieri del Comune di Adrano, che dopo l'attività ispettiva e l'approvazione dei verbali precedenti, dovranno trattare le linee di indirizzo per l'elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021. Il protocollo d'intesa, strade del vino e dei sapori dell'Etna, regolamento ad otto una telecamera e il piano di lottizzazione di alcuni terreni. Nuovo appassionante caso per l'archeologa Isabella De Clio, creazione della scrittrice catanese Barbara Bellomo. Il peso dell'oro è il terzo e per adesso ultimo romanzo che ha per protagonista l'eroina di carta, immersa fra storia e giallo. Pietro Nicosia ha intervistato la scrittrice. Il peso dell'oro è il terzo romanzo di Barbara Bellomo, che vede come protagonista sempre l'archeologa Isabella De Clio, che ancora una volta si trova al centro anche di un'indagine in cui vi sono due efferati delitti. Sì, ancora una volta torna Isabella De Clio, la mia archeologa, alle prese questa volta con la corona di Archimede. Ho dato spazio nel mondo antico alla Siracusa del III secolo a.C. e nel mondo contemporaneo alla nostra città di Catania, che è descritta, spero con tutto l'amore possibile, di una catanese. Si tratta della trilogia di Isabella De Clio, dopo la ladra di ricordi, il terzo relitto, arriva adesso il peso dell'oro, ma adesso Isabella De Clio ha messo forse la testa a posto. Eh beh, Isabella De Clio ha messo un po' la testa a posto. più che altro la sua autrice ha pensato di trovare il libro molto più grande, e non ha proprio il mio discorso. Inoltre per rimanere Inoltre per rimanere Inoltre per rimanere